Salve bella gente, qui è il vostro Manuel, bentornati! Oggi siamo qui sul quinto episodio di The Last of Us parte 1 Remastered Signori, siamo qui con il nostro Joel, super incazzato Nello scorso episodio abbiamo incontrato Marlene, una donna delle luci Che a quanto pare abbiamo anche incontrato il bro, non mi ricordo benissimo il nome Che ha venduto le nostre armi, sia di Joel che di Tess Quindi grave come cosa e dobbiamo recuperare le nostre armi Prima di iniziare lasciate un bel like e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale Nella fine dell'episodio abbiamo incontrato Ellie raga, mamma mia iniziamo subito con lei Non ho mai giocato con questo gioco e giocarlo con le mie mani veramente è proprio tutta altra roba Iniziamo subito Allora, quindi dobbiamo in teoria accompagnare Ellie Magari, magari, vediamo se Ho sentito la sparatoria, ma Cos'è successo? Le luci Se non ci togliamo dalla strada succederà anche a noi L'esperto sei tu, io ti siedo e basta Vedere proprio una città di questa Da un lato è molto bella da vedere Per la remastered La fa veramente La rende bene Da un lato neanche tanto Di qua Mi giuro lo sopporto più Sto coso che si Andiamo raga, andiamo Dunque forse è meglio anche con la luce Non c'è da niente altrimenti Dove stiamo andando? Lassù Così arriveremo al tunnel nord Come facciamo a salirci? Dammi un minuto A posto Dai Ellie Te la fa giusto? Certo, ciao fa A volte Ma hai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta Allora, cos'è Marlene per te? Non so È un'amica, credo Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci Quanti anni hai? Dodici Conoscevo mia mamma E si è presa cura di me E ho quattordici anni Non che c'entri qualcosa E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa Così invece di restare a scuola Hai deciso di scappare e unirti alle luci Giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare Se è ciò che vuoi sapere Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché La verità Non mi frega niente di quello che vuoi fare Ottimo Bene A me non fa correre, raga Devo per forza andare così Allora, andiamo Eccoci qui Che stai facendo? Mi ammazzo il tempo Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerei Il tuo orologio è rotto Eh, ce l'ha regalato Sara, raga Mamma mia Ti lamenti nel sonno Odio i brutti sogni Sì, anch'io Sai Non sono mai stata così vicina All'esterno Intendo Guarda com'è buio La fuori non può essere peggio Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi Scusate, ci ho messo tanto Fuori No, finalmente è tornata Se la caverà Ho visto la roba là fuori È tanta Siete sicuri? Sì Andiamo Let's go Ah, raga, che belli Non è strano che ci usino per il loro contrabbatto Marlin voleva farlo da sola Non eravamo la loro prima scelta E nemmeno la seconda Ha perso molti uomini Non aveva scelta Già, spero ci sia qualcuno vivo Troveremo qualcuno Vedo che è di moda nascondere i passaggi Prima tess Prima lei signore Giusto Ebbè, in effetti Si va giù Si va giù Ah Eh, sono un coglione, raga Mamma mia Chi ci aspetta nel luogo di consegno Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città Io spero di non incontrare mob Chi sei tu, eh La figlia di uno che conta Roba così Una cosa così E quanto durerà tutto Se tutto va bene Riusciremo a consegnarti entro poche ore E lì Una volta usciti da qui Devi seguirci senza allontanarti Mappa percorsi pattuglia Una mappa dei percorsi e la pattuglia nella zona Va bene Vedo che qui i minatori si divertono Si sale Sì Eh, vediamo Pare di sì Non è vero Bene A posto, dai su Dai, piccola Attenta ai piedi Questa pioggia non va bene Porca titana Sono fuori, finalmente Bello sentire il rumore della pioggia Saliamo No Non fate cazzate Forza Giratevi, in ginocchio Scansionali, siamo alla base Bene Le mani sulla testa Qui è Ramirez, settore 12 Richiedo prelievo per tre vagabondi Ricevuto Chiudi un occhio Possiamo pagarti bene Bazzita Sono stanco di questa merda Tempo di arrivo? Un paio di minuti Scusi Let's go Mamma mia E invece Oh, merda Guarda Gesù Cristo Dici che Marlin ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta No? Quindi questo mente Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta Guardate qui Non mi frega un cazzo, Nicometti Ti sei infettata È di tre settimane fa No, si trasformano tutti in due giorni Basta cazzate A tre settimane Lo giuro Perché avrebbe dovuto fregarvi? Non ci riesco Beh, meglio che ce ne andiamo Forza Vai Vai, sbrigati Forza, forza, forza Beh, si gioca Sì, certo Aiuto Ah, ok Adesso Io devo se Via, via Corri, 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 corri Che ci hanno trovato, cazzo Aiuto, aiuto Dove stiamo andando? Salta, salta, salta Che c'avevano visto Però dettagli Non è successo niente Stai zitti Dobbiamo fare un'altra corsa Sei pronta? Sì Certo Maledizio che sono ovunque Forza, 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 forza Cammina Vai, Joel Accendi la luce Non vedo un cazzo Dove devo andare? Rimanete, giù Forza, forza No, 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 no Forza, niente Allora Ce la facciamo a giocare stealth? Eh, che cazzo Forza Tutti dietro di me, signorine E allora, dai Allora, loro stanno là Io vorrei capire Ok E una volta che vado di qua Li devo eliminare? Non credo, raga No, no Anche perché Le munizioni sono messo una merda Allora Piano Ok, ok Ci siamo E lo so Che siamo qua Forza Piano Con calma Allora Vedo uno Pezzo di merda Schifoso Va bene Allora Allora Io ho Due colpi Pistola Come dobbiamo fare? Allora Magari se li aggirassi Non lo so Amici Devo andare avanti C'è un passaggio Meno male E se io vado di qua E cavolo è Non lo so Però va bene Prendiamo tutto noi Fatemi dare un'occhiata Lame I nastri Ah Per completare Delle Ah Con questo Posso craftare Delle cose E' premuto Comunque Ah Così ho fatto un coltellino Ok Ok Posso craftare La roba E' vaffanculo Facciamo il cino No 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 Non penso sia Il momento Va bene Ci siamo Raga Avrei potuto anche Giocarmela diversamente A sparare Però Non mi è sembrata L'opportunità Per farlo Non ho avuto opportunità Di farlo Eh raga Non posso affrontarle Ah raga Furtivi Furtivi Fermi Tutti Allora In guardia Ci sto io In guardia Fermi 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 Quando ci vuole Per abbatterlo Questo Fermi E vai a controllo E' scemo Ma vai a controllare Non so chi Che mi sta vedendo Hai quel pezzo Di merda Là Prendi questo Dove dove Non ci credo Eh ma ha visto Quello Ok Non mi avete visto più Comunque raga La mia Che posso fare Che posso fare Più di questo Fuori Fuori Munizioni Non esistono Le munizioni Non esistono Si va A Pugni Che le munizioni Non esistono Eh dai Grazie 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 che mi da Di mattonia Comunque io sto Morendo Ragazzi Mamma mia Fermi Abbiamo rischiato Troppo Niente Si va Si va Pugni Raga Così si fa E basta Allora Possiamo andare Di qua Andiamo Cioè magari Io non sto Esplorando Bene Raga Ma non Penso Cioè Andiamo La minima Andiamo Scappiamo Allora raga A un certo punto Mi è preso Il punto Non mi interessa Se muoio Andiamo A pugni E basta Scappa Immediatamente Ok Cos'è Boh Ok Ci andiamo Non vedo niente Ci siete Ci siete tutti Andiamo Veramente Non voglio farlo Mai più Non voglio mai Capitare Un'altra volta In un'altra situazione Del genere Perché Eh Stai vicino Eh Almeno Non piove più Eh Ma che c'entra Giovanni Non frega niente A nessuno Nella pioggia Mi servono Le munizioni A me Non posso fare Munizioni Allora Niente Di addestramento Di addestramento Stine luci Ah Non mi interessa No Mennastri Bende esplosive Zucchero Arma Corpo a corpo Vabbè Non c'è niente Eh Fa culo Sì Joel Prima che io Passo lì Però Volevo controllare La situazione Va bene Andiamo di qua Merda Merda Altri soldati Non è possibile Non credo che ci vedano Ci muoviamo Bene bene Ci siamo Dai Tutto è bene Quel che finisce Bene E mo Ok Ok Ah che Questo Ah Oh Finalmente Sto controllando Come sto controllando Sto prendendo tutto Ma Non va bene Ricarica Mi sembra Non ci sia nient'altro Due colpi Mamma mia Eh va benissimo Saliamo attraverso il condotto Stiamo di qui Stai molto vicino Ok Andiamo Wow Aspettate Ci sono Dai Dai Madora 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 Che Che Episodio Bene Bene Sono andati Qual Qual era il piano Se anche riuscissimo A consegnarti Alle luci Che accadrebbe Marlene Ha detto che Hanno la loro zona Di quarantena I loro dottori Stanno studiando Una cura Sì Ma hai sentito Eh Tess È che Quello che mi è successo È la chiave Per trovare un vaccino Oh Cristo È quello che ha detto Ah certo Non ho alcun dubbio Ehi Vaffanculo Non l'ho chiesto io Neanch'io Tess Che cazzo ci facciamo qui E se fosse vero Non ci credo Se fosse così Joel Siamo arrivati fin qui Andiamo fino in fondo Devo ricordarti Che cosa c'è E là fuori Ho capito Mamma mia raga Questa parte Passando dal centro Arriveremo al palazzo Del governo Per l'alba Smato Eh speriamo Signori Noi ci becchiamo Al prossimo episodio Quindi la vostra mano Di quartiere Come al solito È tutto Oggi abbiamo scoperto Che egli è infetta E quanto so No anzi Non voglio spoilerare Per qualcuno Che forse Non sa nulla Non voglio spoilerare nulla Va bene ragazzi Noi ci becchiamo Al prossimo episodio Quindi la vostra mano Di quartiere Come al solito È tutto Alla prossima Bella